Una giovane di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta di morbillo all'ospedale Garibaldi di Catania lo scorso lunedì. Era giunta al pronto soccorso il 23 marzo, prima il ricovero in osservazione intensiva, poi in rianimazione secondo la famiglia, che ha presentato un esposto ai carabinieri che hanno sequestrato le cartelle cliniche. Ci sarebbe stata negligenza, me l'hanno ammazzata, detto la madre in lacrime, è rimasta su una barella per ore insieme ad altre persone che avevano il morbillo, come può essersi aggravata in così breve tempo.